loro chi sono i nuovi acquisti vorrei sapere come vi chiamate dimmelo io sono Matteo io sono Simone benissimo siete quest'anno nuovi con l'Urania no no io lo faccio già da tipo tre anni allora sei buonissimo sei un campione da quest'anno ciao ragazzi fate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti